Cerchi sospesi sulle acque del lago, lidi con sdraio e trampolini, moderni giardini e persino aree museali, svelati alla città ai 19 progetti che hanno partecipato al concorso Waterfront indetto dalla Comune di Lecco con il patrocinio degli ordini professionali di architetti e ingegneri e di Confcommercio Lecco per la realizzazione del nuovo lungo lago cittadino in tutto 10 chilometri. Cinque dei 19 elaborati pervenuti stanno proseguendo l'iter previsto dal bando. Sono stati selezionati da una giuria tecnica presieduta dall'architetto paesaggista di fama internazionale Andrea Schipar. Le cinque proposte selezionate saranno rese note all'inizio di febbraio e avranno accesso alla seconda fase nella quale dovrà essere sviluppato un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il disciplinare del concorso prevedeva però l'attivazione di progetti partecipativi per coinvolgere la cittadinanza e per questo fino al 24 gennaio al primo piano del municipio è allestita una mostra nell'ambito della quale saranno esposte tutte le proposte progettuali pervenute con la possibilità per i cittadini lecchesi che visiteranno l'allestimento di votare il progetto preferito. All'autore del progetto che avrà ottenuto il maggior numero di consensi dei cittadini verrà assegnato un rimborso spese pari a 3.000 euro messo a disposizione da Confcommercio. A conclusione della mostra inoltre si terrà un convegno in programma venerdì 24 gennaio alle 16 al Palazzo delle Paure. L'esposizione commenta l'assessore all'urbanistica del comune di Lecco Gaia Bolognini allo scopo di mostrare in quanti differenti modi sia possibile rileggere questo fondamentale scorcio di Lecco con quali nuove funzioni sia possibile integrarlo e come i professionisti, ancora assolutamente anonimi, abbiano deciso di investire tempo e risorse in un percorso sfidante per l'intero territorio. La procedura concorsuale ha subito dei ritardi, ammette Bolognini, ma la vera vittoria consiste nell'aver trasformato in realtà una bella idea di Confcommercio, averla resa percorribile per davvero con tutte le limitazioni e i vincoli che un bando ad evidenza pubblica si porta dietro. A metà 2020, conclude, avremo un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del lungolago di Lecco, che tradotto significa essere pronti per affinare il progetto e avviare il primo lotto di lavori, un'eredità seria e concreta per la futura amministrazione. Grazie a tutti.